Come da pronostico serata propizia per le italiane, in Coppa UEFA inizia bene la Sampdoria, in Portogallo va in vantaggio dopo circa un quarto d'ora con Flacchi al secondo tentativo. Il Vittoria Setúbal, padrone di casa, proprio in apertura di ripresa trova il gol del pareggio, un destro piazzato di Ciomogo.